bestiace bentornati in questa piacevole serata tutti quanti insieme dredge lo andiamo a completare lo andiamo a ultimare lo andiamo a finire lo andiamo a concludere perché stasera bestiace si sente sma sma prova prova 1 1 2 2 2 se mi piacciono a voi questi tipi di musica triste allora bestiace stasera dredge allucinante il gioco lovecraftiano dove in sostanza dobbiamo andare a pescare i mostri che abitano le acque non so forse siamo in preda a qualche dene di demenza si va a concludere perché andiamo a fare l'ultimo capitolo l'ultimo bioma che è quello del fuoco ebbene sì nell'acqua c'è il fuoco siete confusi ed è tutto normale ed è tutto normale d'altronde appunto si parla di questo di un gioco lovecraftiano ma attenzione però attenzione però perché io ho una nuova tastiera la tastiera della logitech che sto cercando con la quale sto cercando di fraternizzare non ci riesco perché questa tastiera è estremamente piccola per le mie mani e probabilmente tra 10 15 minuti mentre inizierò a giocare mi incazzerò la sfascerò in live davanti ai vostri increduli occhi mi dispiace ragazzi sappiate che la mia la mia pazienza ogni tanto ha un limite ovviamente ho sempre gli occhiali storti non so cosa sta succedendo ormai ho imparato a guardare il mondo di spiego sembra una realtà parallela a quella che vivo ma zelda che cazzo c'entra in questo preciso istante momento cosa c'entra zelda oggi faccia allora c'è porto zelda mi chiedete dreads porto dreads mi chiedete zelda ma l'ho fatta apposta però c'è è allucinante quanto vi voglio bene ma prima ma prima di iniziare a giocare prima di iniziare stai calmo un cazzo va bene prima di iniziare a giocare volevo con voi vedere le news della settimana perché il motivo lo fanno apposta a a perché il motivo il motivo che sta dietro all'incazzatura il seme della rabbia qual è che genera poi questo albero di minchiate qual è beh adesso ve lo faccio vedere perché come sapete ormai mi è preso il vizio di informarmi forse non dovrei dovrei farmi i cazzi miei e guardate qua i g com a 9 nuove cose da mostrarci una più bella dell'altra siete pronti ma god of war incredibile incredibile devo vedere se mi ci sta un pugno in gola così a ferro lugo la tiro sono il campanello come si suol dire sperando che mi cada giù anche il cervello a quel punto non sentirò più niente vediamo un po se un nuovo cazzo sta succedendo neanche non lo so a tra l'altro ci sono problemi d'audio perché ieri mi avete detto l'altro l'altra sera mi ha detto che c'erano i problemi d'audio non si sentiva bene voi sentite bene in questo momento no ma ieri c'erano dei problemi audio il maestro lo sentivate bene vede vederlo bene no perché è impossibile ormai poverino è uno spettro di se stesso ma si sentiva bene almeno mi saluti certo 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 sì ma elder ring voglio cavarmi gli occhi metterli qua 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 e guardare quello che state guardando voi così lo punto verso il monitor per capire per vedere cosa vedete quando mi incazzo cosa vedete si sentiva bene ok allora ma allora allora perché daxin è il maestro successivamente poi sul gruppo dei moderatori è la fine hai sbagliato tutto è sempre colpa mia è sempre colpa mia allora bestiace intanto non io non sento però una cosa adesso sì non sento le notifiche che minchia succede perché non sento le notifiche voi sentite le notifiche perché per quale motivo di grazie aspetta è fermi ma voi adesso sentite qualcosa sì ma che cazzo sta succedendo ah ma è partito boh vabbè ma adesso sono partite le notifiche si era impallato qualcosa con le cuffie si sente un leggero rumore metallico di sottofondo effettivamente quando ah ma che cazzo è dovuto non è che forse ma non è che magari sentite il suono del microfono quando lo muovo sma prova non è vero allora sono dei bugiardi piace mentire e andrea e non è che sei tu che non senti niente eh ormai si stai invecchiato si sente solo quando parli boh proverò poi a vedere che cazzo combinato forse è troppo alto il volume vabbè vi saluto va vi saluto pixie streamlabs gabri la ragazza arcera jadux caffecaldo ferm boni il kingus eccolo lì il nostro daxin allucinante il barbuto chiama micap rainas infernal demon chiamarti ah no clara dark death wolf morfim vi ricordate chiamarli due che bel gioco ritornerà ve lo dico ve lo dico ritornerà perché mi piace il medioevo freya helsinell il malta jaco devil daniel e togado fu 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 feppe fu 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 peppe fu fu feppe fu rebecca sergen de sergio già da arca ciao buonasera salve salve sia vlad sia vlad perdonami la madonna cipollina qualcuno di nuovo qualcuno di nuovo polifemo eccolo lì asciugamano eccolo lì brad pitbull allucinante set wife beer and beard allucinante finalmente nomi di una certa rilevanza big 0 2 1 0 che scrive per la prima volta in chat credibile grazie mille bestiaccia benvenuti e benvoluti vi ricordo che il 12 giugno che si avvicina perché mancano pochissimi giorni vi arriverà una switch in faccia di traverso quando meno ve l'aspettate quindi preparatevi bestiaccia preparatevi siateci il 12 giugno soprattutto in live vi regaliamo una switch ovviamente ai sub l'abbiamo già specificato per ringraziarvi del vostro sostegno che ogni giorno siete qua il punto sostenente il canale alcuni di voi sostengono canale dall'alba dei tempi c'è veramente pensiamo ad uno star che non ha un cazzo da fare sono tre anni e mezzo che segue questo canale è incredibile ecco gente come lui che alimenta quello eccolo allucinante grazie bestiaccia che alimenta quello che è la linfa vitale aea di cop tv grazie bestiaccia grazie di cuore quindi il 12 vi regaliamo una console speriamo che ne possiate giovare speriamo che uno di voi ecco se la porti a casa e niente quando i parenti vi chiederanno come sia possibile dite che colpa nostra quando vi direte ma scusa non hai neanche i soldi per i fazzolettini di carta e adesso una console di rispondete è ma l'ho vinta non è colpa mia me l'hanno regalata spero di essere stato abbastanza quando 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 lo stato quando verranno a fare un controllo fiscale come l'hai comprata me l'hanno regalata me l'hanno regalata e siamo a posto va bene ok dalla me ti prego assolutamente no imperius non te la meriti te ne meriti quattro allora guardate un po guardate un po fermi a tra l'altro a breve sentite i cani sentirete i cani piangere adesso dovrò alzarmi andare a fare una cosa a questi cani a coccolarli molto duro e a quel punto staranno calmi abbiate pazienza a breve a breve però intanto guardate qua allora intanto notiamo che che c'è che c'è sta roba questo qua un trailer di un videogioco skate do acrobatics kill and look cute while doing it gory cuddly carnage is a foul mouth third person hack and slash action adventure you play as i gatti i gatti i gatti gory acute but deadly synthetic cat c'è ma capisci che questi si sono messi attorno un tavolo una sera dopo aver fatto uso di sostanze quale lo zucchero tirandolo su dal naso ovviamente non per bocca e hanno detto dai facciamo un gioco dove c'è un cute gatto sintetico dici che è una buona idea e l'altro beh certo sì ecco qua speed violence and gore che sono i nomi degli sviluppatori uno si chiama speed l'altro si chiama violence e l'altra si chiama gore incredibile per quote rosa c'è una che si chiama gore voi dite ma è violence la tizia no no è gore la tizia mi sa di spyro a me sa di merda boh ma non è questo che volevo farvi vedere a parte il fatto che hanno trovato ancora vita ultraterrena su su in usa come al solito io volevo farvi vedere che un giocatore di diablo ha perso no non è questo dov'è eccolo qua un giocatore di diablo ha perso il suo personaggio maxato nella 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 chi chi chiama versione hardcore del gioco dove se tu perdi o muori cioè se dove tu muori il tuo personaggio viene cancellato ecco lui ha perso il suo personaggio perché la connessione si interrotte 300 ore di gioco buttate nel cesso mamma mia 6.000 dollari persi perché c'è questo ha perso il suo pupazzo hardcore barbarian was gone madonna mia però d'altronde insomma chi chi pianga del suo mal lasci se stesso ma io volevo far vedere questo qua che è un trailer fermi si chiama bottoms che tradotto in italiano sarebbe culi o basso punto basso insomma la frase qua riporta we are literally at the bottom siamo letteralmente sul fondo we have nowhere to go up non sappiamo dove torna come tornare su ma attenzione perché non è tanto il trailer che io non ho ancora visto e voglio godermi con voi ma è la descrizione guardate red band trailer for bottom guardate il trailer di bottom che parla di due lesbiche che iniziano una scuola di combattimento una sorta di flight club per perdere la loro virginità uscirà il 25 agosto non guarderemo il trailer di questa roba non guarderemo il trailer di questa roba non lo faremo mi pare abbastanza ovvio per rispetto a noi per rispetto a noi non me ne frega un cazzo di loro per rispetto a noi lo porti cosa porto un film va bene lo porterai dino sì sì per rispetto a noi ah bene andrea ha richiesto il trailer reaction di sta roba non non lo farò non lo farò non mi interessa ecco non restituire non devi restituire daxin non restituirgli i punti canale d'andrea non se lo merita dino c'eri quasi c'erano quasi loro c'erano quasi loro nello stesso tempo bowser ha compiuto 34 anni ve ne frega qualcosa no neanche a noi però a questo momento è molto importante parlare di mario di tutto ciò che vortica attorno a quel simpatico idraulico extracomunitario allora io direi di partire quindi dunque con DRAIDES la storia dei sette mari che in realtà sono quattro in questo gioco ma vabbè ma sono sette i mari ma io ne conto cinque scusa BLACK SOULS GAMES sono cinque cimeli eh? eh? sbabenga ma che roba dragaggio delle proprietà eh grazie grazie OBS CONTINUES oh eccoci qua eccoci qua ma si cinque quattro set ma si ma siamo lì allora bestiace che menù confuso il mio mio magazzino fanatico colonne di pietra attenzione perché avevamo un obiettivo quello di illuminare le statue illuminare le statue che come potete vedere vanno riempite di una sorta di fuoco servaggio vedete qua crogiolo di pietra che dobbiamo cercare da qualche parte però la nostra barca qual è il problema? aspetta mo ti spiego che la nostra barca la nostra barca dove sta la barca? eccola qua la nostra barca ha la lenza anti gorriglio che però ci permette di pescare la mangrovia e il costiero a noi serve qualcosa che ci faccia pescare il vulcanico nico 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 si impallò e per trovare il vulcanico dobbiamo tornare indietro spendere dei soldi e comprare la lenza vulcanica nico nico va bene? ora io non ho voglia e voi? beh insomma aspetta va ma che bella ma è notte? si sono mezzanotte e 46 madonna allora aspetta un attimo che già che ci siamo ci abbiamo su un po' di materials ecco qua cos'è? ah boh lascia lì sento degli strani suoni qualcosa si muove nell'acqua quel qualcosa era Elon Musk CEO eccoci qua ma quanta cazzo di stoffa c'è in sto mare? leggermente inquinato che poi in realtà dovrebbero essere dei delle nasse di altri pescatori non è vero? non lo so non mi importa allora aspetta cazzo c'è un'aquila? ho sentito un'aquila sono le 6.14 del mattino e tutto va bene ci servono dei soldi ci servono dei soldi e dobbiamo pescare quindi facciamo una roba io andrei qua a punta acciaio oppure in questi posti qua e pescherei le bestie che si trovano in questi luoghi sperando che non ci sia da utilizzare sempre la lenza diciamo vulcanica ma basti quella classica quella canonica la lenza fatta di filo interdentale o no? non lo so si sente che la tastiera è nuova? beh non si sente non si dovrebbe sentire teoricamente ah ma lì c'è la stronza che ah ma lì c'è la quella che vende la mercantessa madonna madonna che sono sti pesci? vediamo un po' posso pescare? yes I do ho sbagliato ho sbagliato che pesce è? lo sgombro serpente? va bene sembra importante aspetta devo cercare di capire prendiamoli due per adesso vediamo che altri pesci ci sono chi li conosce questa soundtrack? chi lo farà? è un uomo o un uoma di cultura vediamo se riconoscete la musica questa musichetta che avete appena sentito ma è lo stesso pesce di prima orsu non la ricanterò di nuovo è tipo Sara a banda hai un problema poi galline in fuga pixie dragon complimenti hai vinto una switch non è assolutamente non è assolutamente galline in fuga esatto esatto film sopravvalutato non è vero film eccellente che racconta la storia un'allegoria di quelle che furono i tempi grigi dell'umanità non sto scherzando cos'è sta roba? che cazzo è? gallinella la gallinella che bella la gallinella di mare io ne ho vista una una volta come è che si chiamava? no pesce non mi ricordo più era una sorta di gallinella una berrazione di una gallinella quando stavo facendo scuba diving e c'era sta bestia che sembrava alle ali bellissima sembra fatta di pietra non era una gallinella però avevo un altro nome almeno mi è stato detto così dal pescatore quando glielo ho descritto dal pescatore dal dal tizio lì che non so che cazzo stesse facendo vendeva strani strani pietre in spiaggia ma quella c'è una statua qui si vendeva strani pietre in spiaggia ragazzi una pietra che non avevo mai visto la chiamava sabbia ora c'è gente che effettivamente va in vacanza in posti di villeggiatura e spende soldi per comprare robe come la sabbia in bottiglia quando potrebbe andare effettivamente in spiaggia e comprare e tirar su la sabbia no? dici e invece no fidati c'è gente che adesso ti spiego queste persone noi le chiamiamo imprenditori sbarchi nei pressi di una vecchia barca a remi c'è un uomo e chino vicino al falò a parlottare da solo ti avvicini con cautela madonna sante l'hai l'hai rigettato in mare cosa? il libro dio credo che tu mi avresti chiamato per qualcun altro non capisco non ho le allucinazioni sei davvero tu non è vero? ti senti bene? si gira stringendosi le mani parla col fuoco parla al fuoco è stato lui lui e sua moglie maledetta hanno ripescato quel vecchio libro ma qualcosa avvolto nella nebbia l'ha seguito e ha squarciato la barca boom lui e sua moglie ma noi stiamo abbiamo trovato diverse bottiglie che raccontavano la storia di questi due sposi che ripeto secondo me è quello che è successo a noi noi eravamo sposati alla moglie è successo qualcosa e noi stiamo pescando in preda a a a boh non lo so a un'amnesia tipo una roba del genere secondo me questa è la nostra storia e poi boh non ne ho idea già che c'è anche riconosciuto il vecchio i vecchi non sbagliano mai rivolgendosi sempre al fuoco come se stesse raccontando una storia a un bambino l'uomo imita una brutale esplosione con la voce facendo ampi movimenti con le mani e bruciandosi ustionandosi e prendendo fuoco il vecchio sindaco ma adesso l'ho letto ma c'era scritto anche prima non sappiamo nulla di noi ma c'era scritto anche prima quella cosa parlò disse che ci avrebbe rubato il respiro e che presto non ci sarebbe servito più e poi calò l'oscurità un'eremita più tardi alcuni di noi furono un'eternità più tardi alcuni di noi furono trasportati a riva dalla corrente e lui era ancora lì con quel libro tra le mani rigettalo in mare gridammo mentre la nebbia si infrangeva a riva credevamo che di certo si potesse tornare indietro di cosa stai parlando? argento e cremesi il libro coperto dal sangue di lei dici cose senza senso ma è il libro del collezionista? rigettalo in mare l'uomo chiude gli occhi e trattiene le lacrime la sua voce si fa lievissima altissima ti prego la guardiana del faro lei ha visto tutto lei sa da dove è arrivato dove deve tornare ma cazzo ma cioè io potevo andare in giro per il mare così a caso trovare quest'isolotto incontrare lui e scoprire tutta la storia del gioco in 5 minuti dimmi di più su questo libro argento e cremesi argento e cremesi vabbè figa ci siamo arrivati l'uomo ondeggia avanti e indietro fissando imbambolato le fiamme cosa stai guardando nella nebbia? nasconde quelle calamità è una cosa malvagia non te ne sei accorto? eh no cosa c'entra tutto questo con la guardiana del faro? lei ha visto tutto quel giorno funesto chiedi a lei implorala dille che io si blocca il suo volto cade alla disperazione cede alla disperazione bene eh dormiamo va? no il pesce merda c'ho il pesce nel come cazzo hai i tasti qua con sta tastiera di me bellissima tastiera ragazzi ve la consiglio assolutamente aspetta vado a vendere e arrivo vecchio lui è il vecchio sindaco però ok andiamo di là mi serve al cinema che cazzo è che oh oh qualcuno ha risposto ah qualcuno ha risposto alle mie vans però non vedo nessuno c'ho paura c'ho paura allora allora mercato del pesce ci servono un po' di sodio ragazzoli quindi vediamo tutto il pesce che abbiamo questo lo mettiamo nel magazzino no il mio magazzino torno indietro dove cazzo è il mio magazzino si tenga tutto il materiale che ho trovato oh tra una barra e l'altra sto giochino qua mi rimarrà nel cuore anche quando lo finiremo abbiamo un un doblone boh muoio dagli ormeggi che è sto suono cos'è questo suono terrificante facciamo che intanto dormo va che sono le 4 di notte eeeh opla nulla dovrebbe accaderci che cazzo è sto suono ah va cosa c'è lì va cosa c'è lì c'è un pescionone enorme dov'è non lo vedo più era sotto la barca allora fermi eeeh teletrasportiamoci direttamente a dove cazzo allora sta fretta apparizione ti teletrasporti dove tutto ha avuto inizio si teletrasportiamoci al molo di prima così facciamo un po' di sordi e compriamo la roba vulcanica ragazzi perché ci serve la lenza vulcanica se no non possiamo pescare niente quindi noi dovremmo chiedere alla donna del faro e proviamo a chiedere alla donna del faro alla guardiana del faro cosa si dice vediamo un po' prendi la canna ok mamma aspetta un attimo ci sono cheat in sto gioco? no penso di si però io non li uso ma queste sono le abilità è sbloccato col tempo molto realistico una barca che si decomprime poi riappare 500 leghe più in là ma non c'è la donna del faro guardiana del faro cosa stai guardando cosa sai riguardo libro agente e cremesi? al sol se il team nomerà il libro la donna rabbrividisce me lo stai chiedendo davvero? dopo tutto questo tempo? non sai che deve essere restituito? ti guarda con gli occhi pieni di compassione devi andare avanti te oltre che per lei per te oltre vedi? vedi che è successo qualcosa a nostra moglie prendi tu il controllo sbarazzati di quello a fare una volta per tutte ma io voglio sapere di più non possiamo sapere di più merda e il sindaco? vorrei più informazioni su questa zona hai saputo di qualche naufragio avvenuto qui intorno sei mica di qualche strano avvenimento cosa è successo all'ultimo pescatore? l'ultimo pescatore? oh era davvero inaffidabile usciva di notte tornava senza aver pescato nulla e poi dormiva tutto il giorno era anche un pessimo capitano veramente pessimo non faceva che arenarsi sulla barriera corallina anche in pieno giorno la maestra d'ascia aveva quasi finito il legname per le riparazioni mamma mia che schifo vabbè sti cazzi nel senso allora è un marcio dentro questo sa qualcosa che noi non sappiamo sanno qualcosa tutti loro no dov'è che si compra le robe che non mi ricordo più maestra d'ascia sì dobbiamo prendere questo ragazzi costa 297 costa poco si può fare quindi leviamo l'ormeggi c'è un po' di pesce e via è easy sta a vedere partirei con questo pesce oddio non ci fa guadagnare molto questo vabbè io lo prendo su dai che cazzo ce ne frega un pesce in più un pesce in meno voglio dire qua lo posso prendere no ah perché non abbiamo ancora la lenza non abbiamo ancora pescato dei pesci com'è che si chiamano abissali peccato che sono i pesci più belli e la madonna che cazzo ho tirato su un aquilone ma non ci starà mai sta roba nella barca ma porca di quello che si devo fare avanti devo fare già avanti e indietro tu dimmi tu dimmi tu dimmi usa l'abilità per pescare eh ma ragazzi no veloce no eeeh sì però non mi ci sta niente nella barca dopo lo faccio uh che bello cos'è sgombro o chiuto che carino c'ha gli occhi da lì il nome vedi pensa che bello essere un biologo e poter dare il proprio nome a alla specie che hai scoperto o chiuto era il nome dello scienziato che l'ha scoperto eeeh vendi il mio pesce era da un po' che non vedevo quella strana luce rossa chissà cos'era cazzo sta parlando ma è uscito di senno allora abbiamo i soldi toh toh guarda che meraviglia compra sta cacata che io dovrei posizionare qua ma non so come cazzo ero la fare non me la fa non io non ti odio gioco come faccio non mi ricordo più al magazzino installa tre ore bom e questo qua lo andiamo a mettere al magazzino a posto abbiamo la lenza vulcanica questo è costiero superficiale però io volevo prendere anche abissale ad opelagico che macello dobbiamo prendere anche altra roba qui è fatta? è fatta ma si ragazzi non sto allora non stiamo a completare il gioco al 100% ovviamente dobbiamo completare la storia principalmente quella e capire quale creature ci sono negli abissi quindi non stiamo a impazzire devo andare di là adesso è una roba abbastanza easy ah tra l'altro ve lo dico qua ve lo dico ora ho visto che ho visto il vostro feedback su instagram riguardo la nostra idea di portare Red Dead Redemption 2 sul canale come serie estiva ora io l'ho già acquistato è su steam è lì pronto all'uso è un gioco che ho già giocato tante volte è spettacolare lo reputo veramente una pietra miliare del gaming è qualcosa di veramente meraviglioso sarà fottutamente divertente portarlo quindi mi fa piacere che abbiate buon gusto detto ciò cioè ma il vecchio era 5 minuti di macchina da qui cioè fammi capire la soluzione ad ogni problema era l'isola dietro va bene i delfini guarda che belli sai che carne buona procediamo quindi dicevo sono intelligentissimi i delfini è questo che mi spaventa di loro quindi dicevo Red Dead Redemption grazie grazie bestiacce lo porteremo settimana prossima ma non sarà iniziamo e finiamo Red Dead Redemption noi lo giochiamo quando si è rotto il cazzo lo chiudiamo perché? perché è un gioco che dura un'eternità quindi facciamo le missioni principali facciamo le missioni secondarie facciamo quello che capita poi se intercedono altre serie nel mezzo tipo che cazzo ne so faccio un esempio a caso perché mi viene in mente quello adesso Spider-Man allora a quel punto giocheremo a Spider-Man va bene? ci sono le orche e non le ho mai viste io mi sto perdendo a cacciare ah ma c'è gente che sta giocando a Red Dead Redemption pensavo di essere l'unico al mondo allora perché siamo qua? ah si i pesci i pesci i pesci i pesci vediamo che bestie ci sono qua mi prende per il culo? la gallinella? cioè io ho appena cambiato la rete per una gallinella di mare va bene fottutamente difficile da pescare era l'unica che c'era l'unica rimasta allora dobbiamo prendere quella a fare lì ma ci sono sti pesi ah no ecco siamo morti siamo fottuti siamo fottuti devo utilizzare l'abilità sta arrivando lo strondo lo strondo sta arrivando questi qua sono tipo dei pesci d'allarme allora dov'è? esorcismo? atrofia? cos'è? queste parole esorciste possono allontanare la parte dell'anima veloce muoviti muoviti si 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 al volo al volo veloce un cumulo di macerie in equilibrio precario potresti rimuoverlo per creare una scorciatoia chi se ne frega non ce l'ho sta cazzo di scorciatoia non ce l'ho dobbiamo trovare roba dobbiamo trovare roba figa la bestia è qui si sta avvicinando gira muoviti dobbiamo trovare dei cimeli da mettere nelle statue giusto? non ti ammazzano ti rallentano mi interriva il pescione e infatti eccolo lì uno dei cimeli I saw it qualcosa striscia nella stiva che 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 è? veloce 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 ooole bello via sta gallinella di merda via sta gallinella boh 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 levarsi non riesco non riesco a girare la barca ok ma la vedete anche voi quella statua che ci fissa con l'occhio? oh oh fuggite shock c'era una statua che ci stava fissando ragazzi figa ci si fosse un pesce che posso pescare in sto posto di merda qui si è anche da rompere qua il muro spero che non ci serva per forza l'utilizzo di come si chiama di degli esplosivi perché non ho voglia di tornare indietro ragazzi ve lo dico perdonate oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda ma dov'è? fretta fretta via sono più veloce di lui sono più veloce di lui ho vinto ok 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 abbiamo uno dei cimeli si che cazzo ti fermi vai ma sei cretini ma sei anteficio è venuto un infarto porca troia ragazzi mi è impazzito l'algoritmo citi giovani di strada attaccati sempre ai loro telefonini e ai loro social ma che cantina si beh devo effettivamente riparare tutto per 90 dollari che guarda caso non ho bene abbiamo la barca distrutta e non ho soldi per ripararla arrivederci è stato è stato bello imparare gli esplosivi posso comprarli anche dalla mercantessa? ah buona sapersi non lo farò eh ma non c'è non c'è non c'è non c'è oh ma mi hanno rotto mi hanno rotto i motori tutti e due come cazzo faccio io? sono fottuto sono fottuto sono fottuto sono fottuto che cazzo vabbè vabbè ma si ma si colpisci mi fammi male cos'è mosto suono? sta affondando la barca? no 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 il gioco voi pensate che noi lo finiremo? beh si lo finiremo in un certo senso andrà a finire finirà male ma finirà allora statue io credo che dobbiamo quella di sinistra non lo so ci mettiamo dentro questo ah 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 cosa devo fare io con sta roba? che cazzo è sta roba che ho trovato ragazzi? un'antica tavoletta di pietra con uno strano glifo forse il commerciante di Midolla Minora ne sa cosa riguarda non c'ho voglia come dovremmo fare secondo voi? qual è la nostra prossima mossa? prego grazie Chabibabu grazie Tom TV grazie a questi saluto Valhalla è colpa dei poteri forti che sanno che stai per raggiungere la verità giusto metti la terza canna ok? trova le statue tra le rovine ok questo è il nostro obiettivo grazie questo volevo sentire ora però vediamo che ci gustiamo questo ASMR di fallimento del fallimento vediamo se riusciamo almeno a prendere un po' di pesce queste cazzo di gallinelle adesso veramente le butto a mare c'è nel senso sono già in acqua vabbè avete capito no? bravi che cazzo di pesce? qual è? che madonna gallinella ossificata mamma mia sembra un ammasso di unghie sotto al letto dov'è? enciclopedia porca puttana mandiboli che si aprono e si chiudono facendo l'acqua facendo fendono l'acqua davanti a questo pesce abissale dal piccolo corpo racchiuso entro uno spesso strato osse finché non so più legge mamma mia sono molto descrittivo avete visto però effettivamente sembrava quel caratteristico cumulo di di unghie che si annida sotto al letto però aspetta perché qua uno veramente deve impazzire l'apparizione è giusto? sì olè sto arrivando dobbiamo riparare la barca per forza non so quanto quanto spazio ho nella cabina però ma che meraviglia merluzzo tricefalo maurizio un maurizio a tre teste chi l'è? grazie claudia allora ragazzuoli io ci provo ma non garantisco sto avendo sonno mi fa molto piacere il mio scopo di vita è questo intrattenervi fino a farvi collassare ecco qua cernia nera paraponzi ponzi po allora fatemi vendere qualcosa qua nel mentre perché abbiamo effettivamente ma c'è un c'è un un ent commerciante questo è giorno e notte qui mostra ah ecco mostra la tavoletta di pietra commerciante prende la tavoletta di pietra e l'esamina con attenzione rigirandosela tra le mani e facendola cadere e rompendola in mille pezzi notevole sì credo che sia un frammento di una composizione più grande si allunga verso uno scaffale più alto e tira giù tutto lo scaffale buttandoselo addosso e morendo qualche anno fa ho reperito questo questo altro frammento ah l'hai trovato vicino alle rovine della spina del diavolo non è vero? non mi ricordo sì devo dire sì penso di sì ah immagino allora che ce ne siano altri laggiù per il momento questo lo tengo io mi occuperò di studiarlo mentre tu cerchi gli altri frammenti no nessuno te l'ha chiesto non ho voglia di farlo tieni ti vendo un doblone del mio tesoro ma c'è la neve lì ah che bella arnica e spina del diavolo ho dovuto comprare da poco il tubetto quello lì ma scusami ma i fari ci sono sì il faro l'unica roba che funziona è il faro e i remi che sto usando per mandare avanti la barca ho dovuto prendere un tubetto di arnica ed effettivamente ragazzi a parte il puzzo che fa è incredibile quanto siano circa boh mille anni da quando l'hanno scoperta che la si utilizza e sono circa mille anni che l'arnica non funzioni però a quanto pare ok maestro d'ascia 120 li buttiamo per riparare la barca mi fa molto piacere e dobbiamo comprare mi dicete non mi ricordo più niente per un cazzo anzi facciamoci una bella dormita l'arnica non funziona dai ma cos'è l'arnica eee si ottiene dalla l'arnica è un fiore se non sbaglio da questo si ottiene una che si chiama un unguento che ti permette di disinfettare di oh madonna mi viene il nome tecnico disinfiammare un muscolo un tendine quando c'è il mare al corpo ti hai preso una botta ti metti sull'arnica che l'arnica dovrebbe appunto disinfiammare facendo cosa? facendoti provare il fuoco e le fiamme dell'inferno perché tu applichi l'arnica e senti bruciore allucinante perché effettivamente è qualcosa che non dovrebbe stare a contatto con la tua pelle ma noi siamo esseri umani ci piace usare la natura a nostro vantaggio e ci droghiamo questo è il motivo per cui la nostra specie continua a sopravvivere ovviamente ragazzi vi invito a non dragarvi ho preso un pesce giallo un privilegio raro sto arrivando miseri quindi il pipo diventa una torcia si ma chi cazzo che si mette l'arnica sul batacchio l'artiglio del diavolo invece è l'artiglio del diavolo non è un fiore è proprio l'artiglio del diavolo che domande mi fate? ci sono cose che significano quello che significano cioè scusate pesci vendolo per 80 dollari? cioè io mi sono riempito la nave vabbè senti va allora fatemi usare l'abilità del pesce al cinema voglio vedere cosa fa come funzionava era questo la trofia si guarda eh guarda wow abbiamo un pesce a tre teste abbiamo il merlusso vabbè ma ci rovina anche il pescato però ma che cazzo ma non serve a niente ahhh potevo utilizzarlo con i pesci di profondità madonna ragazzi che stupido che sono meno male che sono carino aspetta ho sbagliato aspetta ho sbagliato affanculo allora questo aspetta eh questo lo metto qua questo lo metto qua e qua ci sta un altro pesce incredibile incredibile imprenditore questo lo giro anche se è quadrato reaction a ultra kill ok usala sugli squali giusto quanti soldi ci servono ragazzi? in realtà non credo che ci serva più niente giusto? sto perdendo tempo e basta non è vero? giusto? usa anche la rete perché ho la rete? ah si ma ce l'ho? che cazzo dite? che cazzo dite? in ricarica bene vabbè sentite dai su basta basta cazzeggiare andiamo avanti con la storia se no non finisce più metti da su non c'ho voglia aveva vinto ragazzi chi non ha voglia vince in automatico è la miglior scusa non puoi non puoi non puoi battere una persona che ti dice che ti risponde con non ho voglia come fai? è infattibile ci sono anche rumors di subnautica 3 se in sviluppo ci sia una zona desertica tipo le zone ghiacciate del 2 ah quindi ambientazione di subnautica 3 sarebbe il bioma arido c'è il deserto non c'è il mare nel deserto star stai bene? mi dispiace tantissimo non ho voglia la risposta provate io mi sto facendo la saga di dead space e sto giocando al 3 ma che sfere il crafting delle armi sai che non credo che sia invecchiato bene dead space io l'ho già detto mille volte quindi sto zitto perché altrimenti iniziate a lanciarmi le pietre quando mi incontrate per strada perché quanto pare è sacro quel gioco non ho mai capito perché sinceramente il primo ammetto che sia effettivamente qualcosa di perlomeno ha bilanciato ha modificato il mondo degli gaming in termini di orrore però nella nicchia dell'horror però diciamo che ci sono tanti di quei giochi ma sono barracuda che sto prendendo figa sto sbagliando sempre no è uno sgombro serpente ma come avete fatto a non riconoscerlo cioè anche voi professionalità zero dino la stasi madonna mia la stasi e la capacità di che è stato niente tentacoli per favore la capacità di bloccare il tempo cos'è sto pesce fa vedere dimmi che è un'altra gallinella di mare e la smetto che cazzo è sta roba e la madonna squalo frangiato ma che bello no lo voglio no merda e vabbè rigettiamolo in mare da poco hanno preso hanno preso un pesce record di 3 metri di 3 metri passa al po non so se è un pesce gatto gigante poi l'hanno ributtato in acqua 25 anni di pesce una roba del genere o era da 25 anni che lo volevano catturare non lo so o aveva 25 anni chi l'ha catturato o aveva 25 anni l'amo che hanno usato per non lo so è un pesce siluro scusate pensavo fosse un pesce gatto perdonatemi voi esperti di pesce bacino galleggiante o mercato mercato del pesce ma perché sto facendo soldi esattamente river monster si si ho pensato alla stessa identica roba no in realtà la prima cosa che ho detto è stata un è stata un wow perché mi ero appena svegliato e si sa che appena ti svegli la prima cosa che fai è spalmare la faccia sul telefono perché il cervello si inizia ad attivare il sangue il cuore inizia a ruolare tutto quanto il sistema è come un fiore pian piano ti apre perciò io ho guardato wow e poi dopo ho capito effettivamente che cazzo stessi leggendo non mi ricordavo fosse un pesce siluro perdonatemi chiedo veni andrò a togliermi le unghie con il pappagallo per per stringere i tubi dell'acqua non lo finiremo mai sto gioco no l'avete finalmente capito ma dove devo andare esattamente ditemi dove devo andare e la finiamo qui qui c'è il tempio antico allora le statue dovrebbero essere qua da qualche parte let's go 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 qui ce n'è uno i pesci non ci devono vedere giusto? un genio mi ha preso un 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 piccolo spavento un altare di pietra la lastra verticale ospita un incisione due crostaci pesantemente corazzati impegnati in una battaglia sulla lastra orizzontale vi sono due piccoli solchi cristo santo no devo pescare dei pesci dove cazzo li trovo sti pesci? scommetto che quella roba la si trova di notte ed io non ho voglia vedete ho vinto funziona sempre non è questo facciamo che ciapo sul pesce che trovo ragazzi perché non si sa mai effettivamente che cazzo è? un alieno razza pallida ne sappiamo nessuna allora la domanda come si fa a sbagliare voi rispondete con dino vedete pensavo ci fosse un pesce da prendere invece qua no qua c'è qui giustamente in acqua troviamo dei pezzi di legno ed acciaio caratteristico qui abbiamo che tipi di pesce questa è un'altra razza albina c'è twitch contestualizza ovviamente ma servirebbero dei pesci lì c'è un altro di cui benissimo così aspetta oh 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 un uccello sento uno strano pennuto urlare tra le vette della montagna nel vulcano di quel che è sono 17.58 dov'è che c'era il mercante di qua mi ricordo un cazzo no altra parte bene bene non buttare il pesce pescato mettilo nella griglia destra così lo sistema nella griglia di destra così il sistema in inventario mettilo nella griglia aspetta dammi un attimo di tempo perché sto cercando di capire dove cazzaro ecco qua dove è il mercante nella griglia di destra cosa intendi nella griglia di destra perdonami cosa intendi per griglia di destra butto una nasa per i granchi ah giusto è vero allora fammi vendere il pesce che sicuramente servirà ma tu fammelo vendere eeeh mercato del pesce ci compriamo su una nasa che non ho perché non ce l'ho tre giorni via la mettiamo qua ok è notte quindi i pesci sicuramente a quest'ora cicciano fuori baoni queste che roba che cazzo è sta roba la ciabatta che sto pescando brotola aaa aaa no 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 aspetta fermo la tua nave in pezzi scivoli sotto le onde ti unisci all'innumerevoli anime che il mare ha inghiottito sono tentato di fare l'ultimo salvataggio vabbè è andata molto bene mi ha preso la la nasa si ah mi devo anche riparare la barca ma una bella notizia dov'è bacino cantiere 3.30 ma questa chiede troppi soldi per un lavoro di merda per il lavoro di merda che fa chiede troppi soldi dove cazzo sono sti granchi qua dammi la nasa come si fa 6 metri nessuno ma cosa nessuno che ma dove 11 ma poi qua mi da il pesce non mi da il granchio io voglio il granchio non voglio il pesce che cazzo lo trovo il granchio ragazzi non vi è non vi è immagino sia un pesce abissale un granchio abissale non posso comprarlo da un altro pescatore il pesce che mi serve un genio una una vera e propria forma piramidale di attività questa è la nasa la nasa non è la rete che cazzo ho messo alla rete scusate monti toh vedi allora aspetta com'è che si fa tasto destra che carina pare una cacata piazzata una a dodici meee tre sta arrivando credo di essere leggermente fottuto ma tranquilli ho un'idea esorcismo un'altra pietra ma cazzo mi chiedeva la roba abissale è la gallinella no questa non è la gallinella questa qua mi sa che è una chimera c'è un pesce che si chiama chimera ragazzi è incredibile fidatevi e la cosa che è straordinaria è che non è una chimera ma si chiama chimera boni bonini ci ha visti? no ci ha visti? no minchia ci ha visti minchia ci ha visti dov'è? dov'è? dov'è fretta? via non può nulla non può nulla è leggermente notte come potete vedere ci serve la razza pallida che sta succedendo? che cazzo sta succedendo? sto impazzendo che è sto posto? è bellissimo mi fa schifo mi fa schifo stare qui lo ammetto lo ammetto tranquillamente non vedo nulla c'è roba nell'acqua che pesce è? fatemi via mamma mia che manovre incredibili è sempre voluto essere un gallo cedrone perché si è fermata la barca? cosa mi ha rotto? no i motori no e allora ma accelera brutto imbecille accelera accelera ma quanti cazzo sono sti pesci? no no è andata bene? quando i pesci rossi ti inseguono passa sopra il geyser oh grazie finalmente qualcuno che mi dice che cazzo fare ha ripirato già la barca si tranquilli ci riproveremo finché ce la faremo io però posso buttare la nasa qua volendo mi dice che ci sono molti granchi qui quelli classici posso buttare più di una nasa ragazzi? si può fare? eh? yes ok perfetto mi prendo un'altra eeeh mercato del pesce levarsi e questo invece lo vado a buttare eeeh lo vado a buttare eeeh questo lo vado a buttare eeeh non ci sono i granchi che mi servono dall'altra parte forse dall'altra parte c'erano i granchietti che mi servivano aspetta o sono granchi in generale il simbolo dei granchi in generale ti serve la lenza abissale mi sa per i granchi cazzo tiro su i granchi con la lenza quel simbolo dei granchi lì indica i granchi in generale ho trovato il pesce che mi serve butto qua la nasa ve lo fermo no as uuuuh non sta andando come volevo sono bloccato aspetta attenzione sono io che inseguo il pesce twist non può nulla guarda guarda sono stanco capo cheat il primo giorno di lavoro ma un'altra nasa ma smettetela di farmi male allora ripeto quel simbolo del granchio che vediamo attorno alla e non rispondete con io che cazzo ne so perché siete dei sapientoni e avete una cosa che io non ho google in questo preciso istante voi potete andare su google è in generale ok quindi quel granchio lì rappresenta i granchi è un simbolo generico non vedo l'ora di vederlo sulle porte dei bagni a breve come rappresentazione di qualche genere della nostra specie va bene? ok? allora è giusto? uomo donna granchio ah da lì ho preso un granchio vedi hai preso un granchio vabbè io pesco qui se che cazzo volete da me quanto tempo devo aspettare per sta boiata? un giorno suppongo dormo va? io la mercantessa ce la spassiamo ubriachi qualcuno dei due cadde in mare riposa andiamo un po' sopporto del pesce aspettiamo un altro giorno aspettiamo un altro giorno com'è troppo piccola questa nasa ne serve una più grande com'è possibile? non mi dire ste cazzate ah no non ne serve un'altra ma poi una vale l'altra quanto cazzo sono grandi sti granchi? sono granchi dio bono sarà il massimo due metri di vestia aspetta 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 guarda eh c'è qualcosa vi ah lumaca de fero madonna ma è enorme 28 e 80 centimetri è la madonna l'altra? l'altra nasa? si ha qualcosa ma cosa? vedi? aragosta tozza che bella che è che meraviglia ragazzi sembra la mia unghia del piede sempre per ritornare lì vedi allora dobbiamo andare su la prima dovrebbe essere qua la prima statua e posizionare il nostro simpatica amica qui problematica qua giusto? aspetta 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 ecco c'è si si entro oggi e uno l'abbiamo messa adesso ci serve il granchio abissale in inglese grank abissale qua c'è un pesce particolare che adesso andiamo a pescare così perché mi sono rotto il cazzo guardate eh guardate 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 utilizziamo la trofia squalo fantasma che bello vedi si è la chimera è quello che dicevo io ci siamo ciapati sul pesce che ci serve e ci serve anche il pesce pallido che non mi ricordo dove cazzo si trovava forse era di là speriamo di non crepare ragazzi eh però non so se mi ci sta nella barga si c'è un po' di spazio qui forse al massimo buttiamo giù quella chiocciola di merda così almeno due delle tre delle statue le abbiamo fatte dovrebbe essere di qua se non sbaglio di giorno si trova la razza aspetta si eccola qui eccola qui boni dai ok entro oggi uno no due ma non può ma che schifo razza sfregiata batonna mia che bella che è è angosciante mi piace porca puttana sembra di guardare il residuo di un brutto incidente guarda guarda la colla sul cemento le ossa sostituiscono la cartilagine fuoriescono bucando la pelle morbida una nuova e spaventosa forma inizia a emergere bellissimo mi piacciono queste cose mi piace ola tutto è bene quel che finisce bene vaffanculo a te ritorna in acqua dov'è la statua l'altra che ci serve credo sia di qua sperando che il pesce il pesce sovrano non ci rompa il cazzo però adesso io me la eh no 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 dove cazzo è? esorcismo fuori dalle palle lasciatemi stare no questi chiamano il boss eh qua ragazzi dobbiamo usare un po' di cheats allora boom baby la roccia si spacca con uno schiocco assordante dopo di che si sgretola rivelando ciò che si nasconde al suo interno abbiamo una fiamma mistica dragon ball poi abbiamo due eh metalli rinforzati e un è un robot per il potenziamento madonna siamo ricchi boh torniamo direttamente dalle 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 come si chiamano dalle statue lasciamo giù la roba che dobbiamo lasciare e via una l'abbiamo fatta non dobbiamo non dobbiamo incappare nel mostro però è quello il problema si è aperto il lambrusco eh che bella la musica di sto gioco mi mancherà dredge una volta finito ve lo dico non è vero no a parte gli scherzi mi mancherà perché penso sia una delle sorprese indie di questo di questo ultimo di quest'ultimo anno perché sarà l'ultimo anno che vivremo e mi piace mi piace a me è dispiaciuto giocarlo vederlo allora il mercato del pesce vendi via 140 è costata quella meraviglia bene così bene così abbiamo attenzione forse dei granchi forse riusciamo a fare anche l'altra roba e esa ma ma e no ma dove cazzo ce la metto io sta roba aspetta aspetta è impossibile ma sono impossibilitato sono impossibilitato ok dai ok ok qua la statua è qua non facciamoci beccare da nessuno mettimi la trofia è che lo sento ruttare lì tra le acque bom opla un piatto d'argento eh chiamato Dario un'altra fiamma una componente di ricerca del legname e un calice di bronzo per gli amici stronzio o bronzio non lo so Dario Argento tra l'altro che ha aspirato ha aspirato quell'opera che è stata Dead Space non so se lo sapete trofeo pescato abbiamo un trofeo ma non abbiamo modo di ricattarlo su allora intanto palesemente ci stanno riependo di merda la stiva così che non possiamo più proseguire con il gioco furbi adesso andiamo dalle statue mettiamo giù la roccia la roccia la fiamma mistica torniamo indietro vendiamo tutto quanto a rigattiere e niente passiamo due tre giornate al molo così e buon una volta ubriachi ritorniamo al volante della nostra meravigliosa vettura acquatica ti servono due pesci aberrati a caso per l'ultima statua ah a caso ah buono sapersi allora statue quella di sinistra olè una fredda fiamma di vampa dalle mani della statua non so che cazzo questa è quella al centro bom bello lo stile della fiamma sempre la stessa si ok riposiamo molla gli ormeggi andiamo ce ne in città ok poi torneremo non ci sarà sarà più midolla maggiore io ho l'ansia di sto posto non so perché mi fa più paura questo posto che la punta del diavolo non mi segna il numero usa la trofia nonetto e lo fa in 3 secondi eh si infatti l'idea è quella così almeno ci abbiamo sui pesci maledetti quindi la trofia ci da dei pesci comunque maledetti per forza non è una cosa casuale no il righiatere non è di qua merda scusate ho votato cosa è matematico chi ma di che cazzo state parlando grazie per il 40 ehi ma ciao bestiaccia bentornata aspetta qua c'è un pesce mutato no non posso prenderlo è sparito tra l'altro che culo pensa che bravo pescatore sono quando arrivo se arrivo io se ne va il pesce se arriva il pesce me ne vado io allora commerciante si mostra gli staccarsi tavoletta di pietra giudicare dall'età ne manca solo uno molto interessante vendi via le 150 robe che abbiamo mi servirebbe il magazzino dov'è il mio magazzino mica c'ho una quantità di roba ragazzi completamente inutile perché ammettiamolo non serve a un cazzo però però possiamo forse potenziarci ricerca io farei per i motori o per le nasse no per i motori o per le nasse no per i motori ma questo l'ho sbloccato no come uno ma che sono ubriaco via e andiamo allora l'atrofia come abilità che cazzo fa vediamo queste parole no raccoglie tutti i pesci morti che vedi a lungo raggio però attenzione non è detto che siano mutati e atrofizza ho capito ci abbiamo su il figlio di Nemo Dino non hai capito l'enigma ottimo vabbè sentite io si provo poi il massimo avete sbagliato voi che schifo la platessa ciclopica oh però due pesciolini due pesciolini pazzi li abbiamo ce ne serve un terzo seguiamo il vento il vento maledeto muta verso di qua ottimo fa tutto parte del piano come se c'è un pesce pesce mutato da qualche parte dai dai gioco credo in te dai quello è un ciclone bene non c'è più il c'era il vento mutato vaffanculo l'aberrazione del vento vedete anche scoreggia però avete capito nel senso quel soave odore ci avrebbe condotto da un pesce mutato tra l'altro c'è sta pazza qua sull'isola che non abbiamo più contattato no lì ci sono le mangrovie non ho intenzione di tornarsi è stato il momento più basso della mia carriera andiamo col mare in tempesta guarda che meraviglia let's go erano due ma forse due diversi ma perché mi devi deludere in un modo o nell'altro qualcosa ti ho fatto io di male dimmi vabbè ci sarà fuori un pesce mutato da qualche parte che cazzo dai dino nella massa il granchio mutato wait what ma no ma l'ho già venduto il granchio mutato no l'ho già venduto o si non credo anche uguali decidetevi perché teoricamente abbiamo vinto non era mutato era trofeo vedi dove sta andando la barca che meraviglia abbiamo visto un fulmine andare a morire guarda che si apre il cielo ma che figata ma non me ne ero mai accorto adesso scorgiamo una luce un meteorite un Thanos lo hai lasciato nella NASA e riposerà comunque sbaglio o il mondo è più piccolo o sono pazzo io non lo so sono cambiato mi piacerebbe un altro Pirati dei Caraibi mi manca Johnny Depp povero Giovanni profondo cosa ti hanno fatto dove è qua accendi la luce dove cazzo devo andare ah qua pesce mutato però io è qui che devo andare ho palesemente vinto allora utilizziamo tutto ciò che ho il mio potere per vincere quindi mettiamo anche l'esorcismo così che scacciamo via i mostri guarda eh guarda perdi eh guarda facciamo così non so cosa stia succedendo oh che cazzo no non dirmi questo immagino debba fare tutto il giro ole a posto boom un altare di pietra ma per quale cazzo di motivo si è putrefatto il pesce ma io non ce la faccio ad avere tutta sta sfighe io non ce la faccio ragazzi ragazzi fellow and heads diceva gandhi abbiamo perso per sempre il pesce mutato ma non mi rompete i coglioni ma dov'è il geyser ma hanno letteralmente fermato ragazzi io non so come fare che so combinato rotola non era questo che dove dai vai vai forse perdiamo eh dov'è la fretta mica sta arrivando in realtà che c'è il geyser lì sta arrivando l'altro pesciolone sta arrivando sono fottuto ragazzi sono fottuto ma il geyser dai dai ci sei ci sei ci sei ci sei vabbè ma poi no 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 borca puttana ma che è un prodigio ma le nasse ma le mie nasse magari dentro c'hanno il pesciolino porca puttana cosa ho schivato ma mi lasci perdere ah ma sono le 5 del mattino ecco perché è normale le 5 del mattino capita questo ragazzi esci a farti una birra con gli amici dopo le 3 di notte dopo l'ora delle strega lì qualcosa striscia nella stiva nel mentre ci hanno distrutto l'ala la barca i pesci si stanno rompendo i coglioni immagino che il mostro è dietro di noi che sta per per mangiarci benissimo vedi esci con gli amici e non si sa mai non si sa mai io non posso soffrire così ma porca puttana pure i cazzo di coglioni ma come dove merda ma va che sei libero guarda sei libero vai sei libero ho fatto una buona azione gioco micchia poi le cavallette le rane mancano tutte le piaghe d'egito questa è la mercantessa lì che si gode tutto l'attimo a parte che la malattia di andare a lavorare qui ce l'ha solo lei chissà magari trovo dei clienti va bene allora ho del pesce da vendergli no ti pareva allora cantiere 90 monete per riparare tutto dammi poi il magazzino no il magazzino il magazzino il magazzino grazie mettiamoci via mettiamoci da parte via le scorte come come i non mi viene la parola ragazzi come si chiamano quelli con i denti il naso quelli che risparmiano sempre tutto dai ragazzi non mi viene il nome quelli i castori i castori i castori i castori i castori allora che devo fare? ah devo dormire ecco cosa volete dormi dino io vado torna però sono le 21 perché mi avete fatto dormire a mezzogiorno? manca un pesce mutato grazie è difficile grazie gadin laxin stai molto calmo d'altronde è la colpa è qua? è lui? sono fottuto e invece addio ma c'è un faro l'ho visto adesso no non è quello che penso vero? e invece attenzione mica basta basta madonna santa basta levarsi levarsi dai coglioni mi serve un pesce mutato datemi un pesce mutato è possibile che non c'è un pesce in mare ma vedete che non c'è un pesce che sia uno in mare prima li abbiamo trovati mille prima che cazzo c'ho nella stiva cosa vuoi? niente vai prosegui ma è allucinante ragazzi oh eccolo lì alleluia alleluia va ce la faccio tranquilli oh cos'è? una brotola infernale giustamente potevo arrivarci sembra il pene del diavolo quindi effettivamente allora cerchiamo di riportare sana e salva sta brotola infernale da dove è arrivata da dove è venuta portiamola alla statua che spero vada bene sta cazzo qui sta che succede? cosa ho fatto? di grazia? sì dai dai questo altare della pietra talismano incastonato che cazzo sto guardando? perché non lo posso mettere qui? che è sta roba? ma che fa? ma cos'è? una tavoletta di pietra circondata da osse e denti al centro è inciso un glifo che rappresenta un amo oh ci permette di pescare eh ma non lo posso installare e invece si non so cosa cazzo abbia utilizzato ho messo una nuova una nuova pesca un nuovo amo mi fa pescare tutti i pesci che voglio? sarebbe una figata ma ha fatto velocissimo o sbaglio? ma sto andando più veloce del normale o? sono un missile che cazzo è successo? statue a lei preparativi sono completati il fanatico ti attende nudo andiamo dal fanatico che c'è? il fanatico le fiamme sono accese sto cercando dei cimeli sommersi è avvenuto qualche naufragio chi se ne fa? lo percepisco il gelo degli abissi ci lambisce il tempo è maturo vieni risali con il lui i gradini del tempio in cima vi è un altare di pietra nera sopra cui sono accatastati vari strati di legna scura e umida estrae dalla sua bestia un antico orologio da taschino la salsedine crepita fervente nell'aria circostante non poteva dire c'è puzza di minto attrae anche te vedo mi ha trovato durante il mio rito di attre... di intenzione va bene ah quindi stiamo facendo il rito di iniziazione quando l'ho recuperato ho indebolito il mio spirito ma con il tempo ho imparato ad apprezzare la sua singolare linfa frodo è quasi tuo possa esso contrassegnare l'inizio del tuo viaggio è la sua fine amen tenendo ancora l'orologio da taschino in mano si arrampica sulla pira e ci si getta e innalza la preghiera quindi inizia a cantare fatti indietro resta in silenzio il vento si alza e cosparge l'altare con acqua di mare una fredda fiamma blu si eleva dal legno fradicio ai suoi piedi basta resta in silenzio la fiamma la gelida fiamma risale le gambe dell'uomo il suo canto continuo la sua voce non traspare alcun dolore solleva le braccia verso il cielo dopo qualche secondo l'inferno di fuoco lo inghiotte e rimane in silenzio divampa per un momento poi svanisce all'improvviso una fredda nebbia si forma sul pavimento del tempio prima che il vento lo disperda verso il mare dal fanatico non è rimasta alcuna traccia la pira è fredda e umida esamina la pira reliqua scoperta ah tutto questo per l'orologio di merda vabbè abbiamo l'orologio in mano bene buono dai dormiamo mi piace viaggiare di notte quando sono stanco così cos'ha teletrasporto fretta dove cazzo è apparizione fuori dai coglioni dai concludiamo sto cazzo di gioco ragazzi che ci siamo vediamo che ci dice madonna stavo per stavo per bucare la barca stiamo dalla vila in rovina consegno il cimelio eccolo che arriva lo sento avvicinarsi con un ticchettio incessante è l'orologio del taschino si hai visto l'ho comprato l'ho comprato da poco estrai l'orologio inspiegabilmente l'ho rubato da poco le lancette che prima erano ferme ora si muovono appena cercando di avanzare ma senza riuscirsi posi riuscirsi posi l'oggetto davanti al collezionista sono passati decenni dall'ultima volta che ve l'ho visto ma il suono del suo meccanismo rimane sempre piacevole è un tossico e con questa la nostra collezione è completa ammetto di essere sorpreso non credevo che avessi la determinazione per un compito del genere ora con questi 5 cimeli in nostro possesso resta solo una cosa ormai l'avrai capito si mi devo sacrificare dobbiamo compiere l'ultimo viaggio questa volta verrò con te sono pronto attenzione stai per entrare nella fase finale del gioco da qui i progressi non verranno salvati continuare si secondo avviso da qui i progressi si i cimeli vengono con noi aspettiamo che la nebbia diventi più fitta se avremo fortuna il mare non si accorgerà delle nostre intenzioni ecco voglio vedere sto cazzo di Cthulhu perché immagino ci ciccerà fuori dall'acqua questo cannavacciuolo coi tentacoli il devasto insomma ci siamo si si bene la nostra destinazione è la distesa aperta a ovest di Midolla Maggiore è segnata sulla map si si proprio non dobbiamo restare troppo in mare aperto non con un carico così importante affrettiamoci il collezionista il collezionista è a bordo della sua imbarcazione mi fa molto piacere ma la bottega ci posso andare è chiusa a chiave orca troia dove devo andare bene bene il collezionista è uscito è volato fuori dall'imbarcazione è finito in mare che cazzo devo andare di qua ovviamente finiamo il gioco a 5 metri di distanza da dove l'abbiamo iniziato un classic e guarda caso stranamente non so se state notando a parte il tesco di questa bestia gigante che c'è qua non abbiamo più la la paura nonostante sia luna di notte non c'è più panico né pena né voglia né fretta siamo noi la paura si si gin leimon grazie mille bestia sarato valhalla e questo è il luogo qui ce l'hanno presa ce l'hanno tolta ce l'hanno rubata ed è qui che finalmente possiamo farla tornare soltanto qui soltanto grazie a ciò che abbiamo realizzato il collezionista apre il libro e inizia a leggere a voce alta per liberare un'anima persa sospesa nel tempo getta fuori bordo l'orologio da taschino incatenata negli abissi getta fuori bordo la collana è necessario vincolare un'altra volta a questo modo getta fuori bordo l'anello sono tutti comunque robe che forse vogliono rivitalizzare nostra moglie sempre che sia nostra moglie o magari è la moglie scusate del collezionista apre la porta al cielo stellato inserisce la chiave nella serratura del carillon sti cazzo di carillon e lascia riposare il mondo stanco getta fuori bordo il carillon senza aver girato la chiave ha sbagliato tutto oh chi cazzo è sta qua ce lo spiegano spero ma è meraviglio porca tono ho i brividi ma che bella scena è stata no dai devi darmi di più dai cazzo sarebbe stato più carino vedere qualcosina con una cazzatina in più oh ecco si questo volevo vedere la premonizione che abbiamo letto prima quindi in sostanza abbiamo rievocato l'octulu per riprenderci lei e e quindi abbiamo distrutto tutto la scena finale è stata bellissima però con il carillon di sfondo che bello che bello complimenti bravi agli sviluppatori salto perché non c'è più ma di aspettare bene bene finalmente un lieto fine oh siete contenti e questo era Dreadge un gioco che ho avuto il piacerissimo di giocare bravi bravi sviluppatori io spero che negli anni a venire in sostanza vabbè quello che sarà insomma che questi sviluppatori facciano altri titoli del genere l'ho adorato aspetta che non mi ricordo neanche più come cazzarola si chiamano loro sono quelli di perché hanno un nome indovinato un po' Black Salt Games l'abbiamo letto due anni secondi fa per forza ottimo questi qua bravi fate di più fate di più tra l'altro vediamo se hanno fatto qualcos'altro si hanno fatto qualcos'altro hanno fatto Killer Frequency trepang ah devono fare Gord questo giochino qua me lo ricordo che sto aspettando sto aspettando da tempo da tempo anche questo titolo senza sapere che è fatto dai loro creatori me lo ricordo si si che è un gioco se non sbaglio è una sorta di RTS dove puoi devi sopravvivere in mezzo alla natura con queste creature che una certa vengono ad attaccarti e farti un culo quadro sempre ovviamente mezzo horror sempre ispirato credo a Lovecraft poi non so non ne sono sicuro forse più per il folklore a vedere questo mi viene in mente più un folklore nostro europeo quindi forse qui siamo su su altri altre leggende sembrerebbe russa sta roba Borshka la 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 strega dei Borshki non ho detto porca la strega dei Borshki da lì Porsche porche porche per gli spagnoli che stiamo dicendo quindi spero vi sia piaciuto bestiaccia adesso noi come al solito cazzeggiamo per chi va è stato un piacere invece per quelli che restano sarà un piacere ancora di più vi ricordo però attenzione prima di andare che il 12 giugno vi regaliamo la switch il gioco è alle porte la switch è alle porte domani che dovrebbe essere il giorno domani è giovedì yes domani giochiamo con Andrea la facciamo la cooperativa su Project Zomboid che ritorna e settimana prossima venerdì c'è Green Hill Grey Hill il gioco degli alieni quindi uno nuovo Horror Night che anche lì non vedo l'ora di giocare e poi settimana prossima partiamo con Red Dead Redemption c'è wow 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 allucinante allucinante la programmazione che stiamo programmando di programmare per voi qualcosa di veramente ascetico spero 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 possiate gradire ora bando alle ciance un po' di calma ho bisogno di di funk jazz stasera si sente? di nome Amnesia Amnesia ha ricevuto delle valutazioni alte quindi siamo sugli 8 9 da IGN Amnesia di bunker ma è palesemente un voto comprato vi devo spiegare il perché? ok allora è molto semplice Amnesia è un gioco vecchio che non va da nessuna parte e che non cambia più il gameplay da circa 10 anni cosa hanno deciso di fare quelli lì di Amnesia? semplicemente hanno aggiunto meccaniche come la pistola puoi difenderti dal mostro se tu togli il mostro ad Amnesia Amnesia diventa un gioco merdoso infatti Amnesia Rebirth che è uno degli ultimi che mi hanno giocato non era bella l'ambientazione carino il twist ma che due coglioni di titolo è stato un po' una merda questo qua io non l'ho giocato quindi parlo per impressioni che ho avuto dal gameplay però vi giuro che non credo di essermi mai annoiato così tanto a guardare qualcosa cioè davvero allucinante ragazzi veramente allucinante non lo so guardatevi il gameplay di 15 minuti di Amnesia di Amnesia the Bunker e ditemi se è un gioco divertente cioè passi mezz'ora con questo orologio in mano che fa luce sta pistola finta con un proiettile e basta apri le porte e cammini ci sono i ratti i ratti ma porca puttana vabbè vabbè io ho comprato oggi Red Dead Redemption attenzione 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 la redenzione rossa 2 quando tornano i ghost fuckers non lo so devo sentire Andrea del 1988 ci organizziamo e sicuramente un'altra giocata la facciamo insieme sì adesso guarda dopo lo sento dopo lo sento tra l'altro è in live magari gli facciamo un bel ride al volo così goliardi siamo pochi però oggi dai la prossima volta che siamo un po' di più dai come si fa a vincere la Switch c'è un rituale da fare c'è un rituale da fare no la Switch ragazzi la regaliamo ai sub basta perché sostengono il canale da una vita tutto qui Drino Dredge ha due finali quello che hai fatto spiega la storia e ti basta caricare e cambiare la risposta al collezionista se hai voglia no non ho assolutamente voglia grazie ciao ottimo che lo so che me l'hai detto almeno adesso lo so e posso fare l'altro finale però non ho assolutamente voglia di fare l'altro finale vedi non puoi battere questa risposta se tu rispondi non ho voglia non puoi battere questa risposta è incredibile il barbuto grazie per i 25 e grazie anche Gene Leemon attenzione poi c'è Gadin Fede Bertos ciao Dino puoi salutare me Fede e il mio amico Mattia assolutamente ciao bestiace perdonatemi se non vi ho salutato prima spero siete ancora in live non cago i vostri messaggi mentre sono in live scusatemi cioè mentre sto giocando perdonatemi Arteves Mega90 e Devil Devili oh grazie bestiace grazie mille per le salve grazie per tutto veramente grazie per il pane quotidiano che ci date quando torna Happy Humble Burger Farm eh ma non è finito l'abbiamo finito ragazzi come mi fai se non riporto un gioco già finito sì la risposta fu sì sì a parte gli scherzi lo giocherò lo giocherò offline e faccio il finale grazie che me l'hai detto davvero perché almeno non mi perdo non mi perdo cioè io poi faccio il coglione però ovviamente è un titolo è stato un titolo molto bello mi è piaciuto molto giocarlo quindi merita merita di essere completato ecco Kingslayer alla prossima ma c'è Zadek salve Zadek bentornato Sunday in return nemmeno off screen oddio non mi ricordo neanche più che cazzo è Sunday in return ah è quello del sì è quello del tizio che sta cercando sua figlia no non faccio e ragazzi come faccio a fare lo screen abbiamo in ballo Zelda poi ci abbiamo ritornerà Tunic dopo Zelda che vabbè Zelda ragazzi ve lo dico a breve lo stoppiamo riprendiamo Tunic così finiamo Tunic perché sennò sto cazzo di Tunic poverascio adesso facciamo le reaction tranquillo e poi arriveranno altri titoli quindi voglio dire c'è troppa roba e io posso giocare a una cosa sola il problema principale è questo perché finché non cambio casa io mi ritrovo in una stanza in quella che è una situazione abbastanza cioè non è una situazione di merda perché per carità ci abbiamo un tetto sulla testa non è quello che è una stanza sola con due cani famelici due lupo alfa 28 blu che giocano tutto il giorno sono cuccioli alla fine perché il più grande c'è un anno quindi giocano tutto il giorno stanno buoni quell'oretta lì e in quell'ora devo registrare ok i titoli stanno uscendo tutti insieme e si stanno quindi accumulando e quindi è anche difficile scegliere la serie da fare e poi il problema è il tempo durante la giornata io ho un mucchio di robe da fare tra cui appunto la programmazione cioè in generale anche il canale stare dietro al canale fare tutte le cose del canale l'editing le copertine tutti gli altri lavori che abbiamo e poi appunto la questione casa c'è da mantenere la casa con i due cani che sono due orsi e distruggono tutto perché appunto sono cuccioli e giustamente fanno i cuccioli quindi ti sfasciano un po' di tutto quindi sei sempre lì a pulire se tu devi uscire metti che devi che bello vado a farmi una passeggiata che poi si intende dire vado al supermercato a spendere dai 100 ai 150 euro di spesa per forza obbligato vado a farmi una passeggiata ecco il momento in cui stai per cacciare il piede fuori di casa guarda un po' la piccola ha pisciato dove? beh sopra il grande ha pisciato sopra il grande così che devi pulire entrambi geniale geniale una costruzione di odio poi ti sale dentro e questa è la vita con i cani è normale sono due due bambini pelosi con i denti a guzzi devo ancora farvi vedere come si è conciato come si è ridotto il mio dito dopo un anno che porto fuori Wutan questo è un dito rotto perché ha furia di tirare quello lì ma ma letteralmente staccato credo la la falange in qualche modo perché già sono storti di miei io già ce li ho storti di mio per carità ma così storto non l'ho mai avuto e due due tre settimane fa ma dato avendo noi il collare lungo per portare il collare di addestramento che poi ci permette anche di controllare meglio il cane paradossalmente paradossalmente se ha rotolato il guinzaglio al dito e me l'ha tirato quello pesa 40 chili tira come un carro di buoi poverino aveva visto uno scogliattolo che fai non mi spezzi un dito quindi prende e parte e questo è il risultato mi fa malissimo da allora ma sono un uomo quindi non me ne lamento e continuo a tocchicciarlo e non vado dal dottore vai da un dottore vedi la differenza tra di noi è incredibile aia ecco mi sono rotto anche l'altro dito no fa impressione ma appunto hai provato a tirarlo forte di nuovo si un po' a tirarlo però non cambia un cazzo rimane rimane così rimane tutto sto taglialo ci ho pensato voglio voglio una protesi in realtà sto sperando che vada che diventi nero caschi da solo ci metto una protesi una lucina non so se vi ricordate un dito mutato un'aberrazione di un dito mi stanno venendo i brividi già già dito a nocciolina ma è bellissimo è bellissimo ma vai dal medico madonna ma no ma che serve che serve che serve ma ci metto prendo due penne bicchie le metto insieme un po' di scoccia e lo stecco da solo e che mi dimentico di farlo è quello il problema che mi dimentico anche di curarmi allora vediamo un po' allora vediamo un po' i titoli che i giochi che mi chiedete di reactare immagino sarà tutta roba nuova che non abbiamo mai neanche immaginato di poter vedere vabbè Andrea fa il buffone con il trailer di sta roba togliendo così la possibilità di reactare veramente a qualcosa da parte di una persona complimenti Andrea il simpatico umorista poi abbiamo Star che ci chiede ultra kill che sembra che sembra qualcosa che cazzo è ultra kill trailer di due anni fa ah forse lo conosco aspetta Star è questo? aspetta eh si e l'hai riconosciuto da che cosa? dallo schermo nero? che razza sono i cani? allora una è una scimmia l'altro è una sorta di pipistrello della frutta non mai capito ma comunque un pastore tedesco allora intanto fermi perché sta sgranando a manetta già che pixel art però mi interessa star quando è che hai quando è che hai deciso quando è che hai smesso di essere un bravo ragazzo cioè questo non è un videogioco questo è un video in pov di lui il lunedì che inizia la settimana minchia allora sembra estremamente soddisfacente e così come sembra estremamente soddisfacente il mal di testa che ho in questo momento non lo so credo che sia divertente quello che è un approccio al gaming moderno moderno che sembra quello di che sembra un po' il simulacro della chetamina buono ma mi sta venendo una sincope però ma mettete una cazzo di avvertenza sto gioco ti fa male perché non puoi farmi spara flasharmi allora chi di voi è sensibile foto sensibile in questo momento sta iniziando a sbavare chiamate un medico cosa cazzo ho appena visto ma è meravigliosa sta roba voglio giocare a sto gioco per affrontare sto nemico non vedo più da un occhio è normale tra l'altro c'è il moltiplicatore dei punti ma cosa stiamo sparando perché non facciamo niente ai nemici ultra kill play the demo now devil myquake myquake.com fico chiedo scusa in chat però è stato effettivamente un bel gioco sembra nel senso sembra fottutamente divertente per essere un fps e poc'anzi dicevo che mi sarebbe piaciuto tornare a giocare a qualche fps quindi effettivamente però non mi piace il mal di testa tenetelo in considerazione se state cercando una sfida non so come funzioni effettivamente il gioco nel senso poi abbiamo starcraft e starcraft 2 per una live domenicale non sarebbe mica male quindi questo sarebbe per il maestro in realtà vabbè starcraft ripara starcraft sostituisce starcraft lo facciamo starcraft 2 va lo lo conosciamo però lì dovete chiedere all'andrea io che cazzo c'entro vabbè dai una cinematic di starcraft non fa mai male è un po' giocare sporco ma allora se proprio dobbiamo giocare a qualcosa della blizzard ci sarebbe sta minchia di diablo eh si chiama così che effettivamente è uscito e che io sto giochichiando quali l'ha quando ho tempo quei 10-15 minuti che devo dire che è molto molto soddisfacente toh ma che bello mi ricordo che le cinematic di sto gioco mi hanno sempre affascinato mi ricordo poi warhammer e tutto ciò che ne comporta perché si warhammer nice nice arrivederci tu vedi sto gioco e dici cazzo ma sarà così no no è un gioco strategico è molto più noioso ma devi guidare quegli affari poi si vede no 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 hai le tue truppe schiacci il tasto con il mouse e fanno tutto da sole ah ok ma sono veramente così tanti i nemici eh beh è morto ma questo è il gameplay assolutamente sì assolutamente sì hai fatto così il gameplay il gameplay Sbaboon pensa aprire la finestra e goderti questo panorama intendevo dire l'astronave che cade ovviamente c'è maliziosi ha una freccia nel naso che è? sai cazzo che non me ricordavo così fatto bene la CGI di sti di madonna santa quanto quanto come come cazzo Matrix sta roba non me ricordavo fatta così bene la CGI di di Starcraft ripara e sostituisce bello 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 bestiaccio ci starebbe comunque però ripeto c'è diavolo in sto momento sinceramente come il gioco blizzard non lo so chiedetelo al maestro magari fate una votazione allora sceglie lui io non c'entro un cazzo l'avete chiesto a lui sceglie lui che è sta roba cosa cazzo è sta roba fermi un altro gioco pixel art fanstats c'è da star male è finito l'orly access di sta roba it's that blood non guarda sembra tutto tranne che sangue francamente potrebbe essere sugo comunque horror rise anew che bello che è mi piace un botto lo stile cioè il problema è che ti viene mal di testa dopo 5 minuti ma che bello che è è stile anime però pixelato fighissimo sarebbe vero se non fosse anime se fosse solo pixelato è un horror narrativo immagino cos'era quella roba lì l'uomo senza pelle al cinema il frigorifero senza maniglia che è l'horror più orribile del mondo non puoi aprire cioè non puoi mangiare il frigorifero senza maniglia è la fine non puoi aprire la porta si è scollato ma avete visto? si si come il cesso senza buco effettivamente oddio puoi cagare nel bidet o in doccia quello era il male all'occhio Andrea World of Horror cos'è ferocious? ma quanta roba sta uscendo ferocious ah è quello dei dinosauri si no sta roba è una cagata ragazzi a parte che 9 secondi di questa roba vabbè bello 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 bellissimo questo trailer che non mi avete consigliato mi piace mi piace mettiamo 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 un po' di mossica aspetta che c'è un altro trailer di un altro gioco io non ce la faccio più scusatemi è un pixel art no peccato se fosse stato pixel art avrei detto si ole si sente la musica? oh yes si sente? boom ma che diamine sto guardando cosa? potresti considerare Children of Silent Town su Steam piccola perla io l'ho adorato Children of Silent Town aspetta ah ma lo conosco una cup avventura che narra la storia di Lucy cresciuta in un villaggio nel cuore della foresta abitata da mostri non è insolito che qui la gente scompaia ma stavolta Lucy è abbastanza grande per poter indagare da solo o almeno così credo si si me lo ricordo sto giochino me l'avevate consigliato più volte non mi vabbè vi faccio vedere giusto al volo non mi dispiace oddio ci sono altri 300 giochi di questo genere che dovremmo portare però sti cazzo sti cazzo comunque mi piace avere un dito rotto ragazzi potrò essere quello su internet che ha il dito rotto la gente dirà non dirà più ah quello pelato Dino quello pelato di CoopTV dirà ah quello lì col dito rotto sarà figo sarà figo secondo me lo ha fatto Frafrog eh quel gioco lì l'ha disegnato lei io meno male allora perché stavo per dire ecco l'unico problema è che è un po' una merda però allora 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 ma andiamo avanti disegni e voce eh l'ho conosciuta al comic con Frafrog è tenerissima ma si taglia anche con un gressino porti un indie si si porti un indie guarda quale vuoi quello che vuoi c'è uno qua che vende le birre dall'altra parte c'è il tabacchino giochino oro meno male stavo per dire poi lo dice lo stesso adesso di Zadek di se non hai pensato la stessa roba adesso dimmi se non hai pensato che disegni di merda sinceramente ora dal fatto che l'abbia fatto una disegnatrice due due domande te le fai cioè nel senso è una disegnatrice i disegni sono di merda ora o no con tutto il rispetto sono gusti miei e poi magari agli altri può piacere l'immensità e la maestria dico tanti tratti a me fa cacare il cazzo io non mi esprimo no adesso parli anche tu dato che adesso siamo nella merda tutti quanti quelli di cop tv adesso parli anche tu vabbè dai sono gusti appunto appunto sono gusti non è mica oggettiva la mia la mia la mia critica io non ho visto rivediamolo insieme a che nome corrisponde questo gioco se scrivi Paolo Andrea bannate Andrea disegni dei paesaggi sono fighi questo è carino ci sta ci sta manca un dinosauro della Dingo Production ma è carino ma che belle luci che bel colore poi è uno stile artistico voluto senza mani senza pupille cioè perché piace così ricorda un po' Tim Burton più Burton che Tim non è brutto ha unito un verme a un pezzo di legno ci ha fatto una fionda ma sai che meraviglia se lo fai veramente che prendi il verme e si spacca il legno della fionda wow twist ci sono degli enigmi interessanti dei puzzlet c'è della gente vestita in maniera interessante the whole truth ragazzi niente tutto qua sono gusti miei non rompete c'è calmo calmo fra oh bro wezzi ci vuole un po' di Hellboy style esatto un po' di 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 ombre molto alabardom bellissima la ricerca del platino se non ricordo male ci sono quattro finali uno più emozionante dell'altro veramente bello vabbè poi la narrazione lì non lo so se mi dite che carino ci può stare o bro mi devi portare rispetto caratteristica frase del milanese fraccia e napaglia caratteristica frase di quello lì fra non esista più non esiste più perché ci siamo inglesizzati ci siamo anglosassonizzati e tra l'altro ovviamente lo zio è diventato fratello il fratello è diventato il bro ma adesso stiamo superando il legame e siamo arrivati a padre madre cugini siamo arrivati a questo siamo arrivati siamo arrivati a questo arriveremo poi a step bro step si io non usavo nemmeno zio non ho mai usato nessuna di queste nomenclature perché anzi rispondevo esattamente come risponde un qualsiasi cinquantenne nella mia stessa situazione quando c'era l'approccio di qualche gruppetto di 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 in alfa e in beta quando ancora non erano ancora usciti dall'early access di maranza e si avvicinavano ciao zi c'hai una sigaretta ciao fra ste robe qua io dicevo non sono né tuo zio né tuo fratello caratteristica frase che sopra i cinquant'anni hai la possibilità di sbloccare però io avevo il cheat e l'ho sbloccato prima ecco maranza in accesso anticipato assolutamente il maestro mia madre classico caratteristica ma da dove è uscita sta roba è colpa di dario mocia così almeno so di chi da chi da la colpa è colpa sua è colpa veramente sua o o è una roba che è partita da 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 mocia ma come gli è venuta in mente sta roba perché perché dissacrare l'albero genetico della gente sono un matusa gue pequeño così a caso come nessuno mi sta rispondendo però di chi è la adesso adesso basta google da dove arriva è mia madre slash mio padre slash mio fratello slash mio cugino slash mio nonno nonno con due slash tutto il mio albero genealogico gradi di parentela di parentela e albero genealogico avvocato andreani punto it parentela indiretta o linea collaterale unisce le persone che pur avendo uno stipide comune non discendono l'una dall'altra di che grado è il figlio del cugino di mio padre cuore parentela wikipedia albero geniale dei bisnonni e dei trisafoli credo che qualcuno abbia sbagliato a scrivere il titolo di questo albero geniale che cazzo è l'albero azzurro albero geniale è bellissimo vabbè vabbè non devo cercare su internet le robe ma com'è albero geniale e qualcuno ha sbagliato a scrivere anziché albero genealogico è scritto albero geniale è geniale è geniale comunque domani ragazzi c'è la cooperativa col maestro su project zomboid lui si sta occupando di preparare la serata però non lo so attenzione Ashan ci spiega il meme di mio padre ormai all'ordine del giorno fermi voglio sapere questa storia incredibile sulla piattaforma ma se vi dicessimo che chi ha dato vita al trend non fa parte di questa comunità stiamo parlando infatti di Volpescu il vero nome è Giovanni Ballerino uno streamer di Twitch originario della Toscana proprio ragazzo grazie al nemico Dario Moac ha reso virale l'espressione di cui tutti non possono fare a meno allora sì partita da lì allora sì vedi è colpa del Moac indirettamente del Moac vabbè sarà un modo di dire can là perché parliamoci chiaro nessuno inventa un cazzo quindi e da lì da quel preciso istante tu dimmi veramente il male è allucinante io ci farei una serie tv su questa storia Netflix e Disney Plus dove ovviamente bisogna algevolare la comunità LGBTQ Plus la potenza dei social vivo per servirti grazie mille uno è lieto di poter servire e poi muore tenendo la mano alla sua schiava umana è bellissimo l'uomo bicentenario ragazzi guardatelo avete visto la sirenetta no mi sono vietato di farlo la famous 2 lo porteremo sì perché si chiama Disney Plus mio padre è nato per esprimere un profondo rispetto verso qualcuno che solo che causa TikTok ha perso tutta una serie di significati ma guarda padre più di più di Pio profondo rispetto dicendo tu sei mio padre cioè nel senso voglio dire mio padre è mio padre non 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 che profondo rispetto ha una frase del genere cioè e quello lì magari pensate al primo che se l'è sentito dire no ma tu sei mio padre e lui risponde no ti stai sbagliando fine della storia mi fanno mi fa incazzare il remake dei film cosa c'entra smatonerò finché non riuscirò a ritornarmi a vedermelo mannaggia te ma c'è su Amazon Prime lo trovi lì grazie mille bestiaccia un piacere un onore grazie a voi che state qua con me ogni sera altro che ci lasci la tua routine di petto in che senso intendi i miei peli cosa intendi dire Kratos no il caratteristico no bestiaccia dai sentite allora siamo arrivati alle 23.30 sapete che in questo preciso istante io mi ritrasformo nella scarpetta di cristallo nella zucca di zucca nel rato di carne quindi insomma ce ne rentro mi dispiace devo chiuderla qui devo portare fuori i cani devo dormire bestiaccia voi fate bravi fate buoni domani siateci che c'è project zomboid il progetto zomboid con andrea nuova serie cooperativa se diventerà una serie non lo sappiamo domani è tutto buono la prima domani vediamo un attimino cosa ci c'era fuori lui si occuperà di creare il server quindi sarà anche figo vediamo di sopravvivere insieme avete già visto il maestro cimentarsi in questo titolo che è riuscito a sopravvivere per due mesi con il suo personaggio Andreina non so se Andreina ritornerà forse si forse no magari si si chiamerà sempre Andreina ma avrà il pene non lo sappiamo non lo sappiamo il 2023 birichino quindi domani siateci perché chiederanno cose incredibili mi ha detto anche di scaricare una modalità una mod che ti permette di 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 perdere gli arti nel gioco casomai ti morde uno zombie tu perdi un arto ti tagli via il braccio e quindi riesci a sopravvivere all'infezione fighissima come roba io pensavo ci fosse già nel gioco ma a quanto pare no e spero di dover tagliarmi il dito e con un cucchiaio vediamo vediamo se si può fare bestiace fate bravi fatti buoni io vi ringrazio per tutto vi voglio bene grazie mille anche per il sviluppatore di black salt non mi ricordo come si chiama comunque il sviluppatore di dredge complimenti grazie mille per questa piccola perla che finalmente è arrivata a concludersi domani appunto no che domani venerdì c'è green hell con green hill scusatemi no grey hill che cazzo quello degli alieni ragazzi il gioco sugli alieni horror che stavamo aspettando ci vediamo domani alle 21 e 30 ciao bestiace buonanotte buonanotte ciao 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 prova prova ciao 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 ciao